Il tempo dal mio punto di vista è scaduto, dobbiamo avere la capacità di decidere. Ho voluto porre questo problema del problema legato all'acqua, perché l'acqua potabile, o meglio l'acqua dolce, è un problema che sta diventando un problema molto serio. Io ho lanciato questo appello perché ritengo che come sindaci dovremmo incontrarci, vederci insieme a Lato, che l'ente che deve in qualche modo programmare quella che sarà l'acqua per il futuro. Noi attualmente abbiamo tre bacini, paradossalmente i tre bacini possono accogliere il 50% della capacità che avevano in origine quando sono stati creati e un qualsiasi cittadino può dire puliteli così tornate al 100%. Non li possiamo neppure pulire perché se noi dovessimo pulire un bacino vuol dire chiuderlo e quindi vuol dire rimanere senza acqua. Quindi va progettato in tempi rapidi un nuovo bacino nel nostro territorio, poi dove farlo non deve dire la politica. La politica si deve limitare a dare indicazioni chiare a Lato, dicendo che il progetto che è già Lato, devo dire, ha iniziato con un progetto di fattibilità, sono stati individuati alcuni possibili siti, ma occorre individuare quel sito migliore. Per fare questo occorre fare un progetto esecutivo definitivo e quindi occorre implementare l'incarico dato perché se non incominciamo a programmare e farlo in maniera veloce il rischio di rimanere senza acqua è molto forte. Insieme a questo dobbiamo fare una politica che fa capire ai cittadini che l'acqua non è infinita, ma l'acqua tra virgolette è finita, cioè è un bene che non è che possiamo trovare o andare a comprare in Emilia Romagna. L'acqua dobbiamo averla nel nostro territorio perché per poter portare l'acqua nei rubinetti ci vogliono le tubazioni, le tubazioni non si fanno in due giorni, quindi ogni territorio almeno a livello provinciale deve programmare dove prendere l'acqua. Le falde sotterranee sono sempre più scarse, nel senso che si sta approfondendo la quantità dove è possibile raccogliere l'acqua, questo è causato dal cambiamento climatico, le nevi non ci sono più, le piogge sono sempre più forti e quindi le falde non si ricaricano, quindi noi dobbiamo non perdere l'acqua quando piove. Siccome le piogge sono sempre più forti, sono di carattere temporali e noi vediamo in tutta Italia che si continua a perdere una quantità enorme di acqua che va direttamente al mare, perché non ci sono i bacini. Quando piove, piove molto e dobbiamo avere la capacità di raccogliere la maggior quantità d'acqua. Ovviamente il tema delle perdite è un tema importante, Marche Multiservizi ha grazie al PNRR intercettato numerose risorse, incomincerà un lavoro per ridurre le perdite, ma non basterà il lavoro per ridurre le perdite perché occorrerà individuare nuovi bacini dove poter accumulare l'acqua, altrimenti il rischio è rimanere senza.